Buon pomeriggio e bentornati a Sport Report. L'attesa sta per terminare tra un'ora e trenta esatte. Allo stadio Monterissi si giocherà il derby tra Audace, Cerignola e Foggia. Vaido per la stessa giornata di andata del campionato di Seguedì. Un evento a cui potranno assistere solamente i tifosi dell'Audace e Cerignola. I rossoneri, quelli del Foggia, infatti è stata vietata la trasferta su disposizione della prefettura dopo i violenti incidenti che si sono veicati a Nocera Inferiore. Per i due presidenti dei soldalizi, Grieco per il Cerignola e Felleka per il Foggia, la sensazione è che sia una partita bella in campo e sugli spalti. Ascoltiamoli.